Sì, sì, se vai, scusi, le nostre... Scusami, prego. Sì, buonasera a tutti. Preliminari, quando ho pregato di legge il comunicato dell'Ampi, del chiamato basta manifestazione neofascisti a Como, l'Ampi, sezione di Como, condanna con fermezza il torneo, il corteo che si è tenuto ieri, il 26 aprile, per commemorare la persona di Sergio Ramelli. Tra l'altro, Ramelli è morto il 29 aprile, è stato senz'altro una delle cose più drammatiche di quel periodo. Queste commemorazioni sono diventate scenari di sloganofascisti e soliti umani, che nulla hanno a che vedere con la pietà umana verso i defunti. Ci teniamo a chiarire che non siamo in alcun modo contro il diritto di commemorazione di questo giovane ragazzo, vittima di un omicidio, ma chiediamo con forza che si ponga fine a forme di apologie di fascismo più o meno paludate, che abbiano visto espresse palesemente nelle medesime manifestazioni degli anni scorsi. Riteniamo che la città di Como, unica al mondo ad essere sede del movimento e della resistenza europea, non possa tollerare simili manifestazioni organizzate da soggetti che non si riconoscono in modo dei valori costituzionali antifascisti e democratici. Inoltre crediamo un ulteriore affronto sia stato quello di organizzare questo torneo, questo corteo, scusate, no, nei comandi. Il giorno dopo le celebrazioni è la festa del 25 aprile. Sono abbastanza atteso perché ricordo un fatto brutto che però mi viene forse sfruttato politicamente. Per queste motivazioni lavoreremo nel futuro per coinvolgere tutti i soggetti politici e sociali che cerchiamano i valori della Costituzione e della Resistenza. Ci impegneremo con le giovani generazioni per cercare di creare quel tessuto culturale e politico che scongiuri il ritorno di questi ridurci antifascisti affinché simili manifestazioni non abbiano più il luogo. Questo è il comunicato dell'Anti. L'altro, parte la preliminare...